Ben trovati, buonasera a tutti, io sono qui ad annunciarvi una cosa che sapete, risulta evidente, ossia che il re è nudo, l'unica speranza è la regina e vi do il benvenuto ad Agartha. Anno 2012, l'economia mondiale è in crisi, mentre catastrofi sommosse e un'ondata di suicidi devastano il pianeta. Tutto sembra voler presagire l'apocalisse maya, prevista per il 21 dicembre, quando il mondo finirà nello schianto di una cometa. Le religioni androcentriche non sono in grado di offrire una via di salvezza, come invece promette di fare il nuovo gioco Agartha, una neurosimulazione interattiva di massa che conquista subito migliaia di giocatori. La testimonia alle guida del gioco è Cassiopea, una porno star la cui scomparsa avvenuta anni prima è avvolta nel mistero. Jane Stuart Mill è tra le prime a provare il gioco, che riproduce fedelmente scenari del mondo reale, in cui tutto viene governato dall'energia chiamata Brill. Ben presto però Jane si renderà conto che l'esperienza che sta vivendo ad Agartha è molto più reale del reale. I sogni premonitori che vive nel gioco la condurranno da clandestina e insieme dovranno riuscire ad aprire la strada verso nuova realtà, perché in questo mondo ormai il re è nudo. L'unica speranza è la regina. Sono qui con me oggi Orione Lambri, che è l'autore, e Vanessa Zanzelli, che è curatrice e generatrice di questo libro. Orione, la prima domanda chiaramente è per te, insomma, introduci, raccontaci cosa è successo, com'è andata la scrittura, la stesura di questo libro. Dunque, intanto buonasera a tutti, grazie per essere qui, nonostante la periferia, nonostante la difficoltà evidente dai nostri voti mascherati dell'esserci. Innanzitutto per rubare le parole a Vinicio Caposea, questo libro, più che un libro, è una vicenda, ci ho messo, abbiamo una certa simpatia per i numeri, il loro utilizzo, diciamo così, listerico, ci ho messo 12 anni per scrivere, ed è un tomo, come vedete, ponderoso, di 600 libro che passa a pagina, e anche il modo in cui si è scritto, anche dal punto di vista di chi ha scritto, ce l'ho io, abbastanza misteriore, è un libro che si è scritto, in quale completamente per i fatti suoi, nel senso che è un flusso, ed è un flusso strutturato, perché è un romanzo distorico, con una trama, una serie strutturale, tanti personaggi che si chiedono alla fine, al final di tutti i suoi rimandi, è una storia, e è avviolato nella sua stesura, diciamo, tutte le regole del piccolo romandiere, chi si approccia a questo tipo di attività, scopre, nel mio caso ho scoperto una cosa fatta, che per scrivere un libro, la prima cosa che devi sapere, è il finale, devi sapere come finisce, e da lì organizzate a riproso, per avere quelli sottogrammi, che si chiedono, gli anticipi, eccetera, perfetto, questo libro invece è stato un esempio di come non si fa, quindi era una cosa, e alla fine mi è diventata tutt'altro, ha seguito molto istinto, e soprattutto ha seguito la storia, le storie, le vite di questi personaggi, che da recensione che abbiamo, sono molto vivi, sono personaggi che hanno molta molta vita propria, e io mi meravigliavo mentre lo scrivevo, è stata un'esperienza che voglio condividere con voi, perché è una sorta di esperienza da dietro le quinte, da background di chi scrive, in questo caso che mi piace condividere con chi ha la gentilezza di venire ad ascoltare, e mi meravigliavo mentre lo scrivevo, ed è questa che ti scrive un'esperienza abbastanza straordinaria, mi meravigliavo perché molto spesso perché il bavvero, non è un modo di dire frichettone, le dita andavano da sole sulla tastiera, e mi capitava spesso che i capitoli mi sorprendessero, ora finché succeda l'inizio capita, perché uno dice vado, poi tanto poi vado a parlare, ma la roba che mi ha più impressionato, è che io, con questo libro lungo, 12 anni, e c'è stato un almeno anno, anno e mezzo di stop prima di chiuderlo, di chiudere appunto le sue oprame, l'ultimo capitolo e nel finale dell'epidemia, dove si chiudono davvero le sue oprame con, cioè probabilmente si può verare anche in modo, per certi versi, anche in modo un po' sorprendente. Perfetto, questa cosa quando ho cominciato a scriverla non avevo idea di quello che sarebbe successo, e mentre la scrivevo anche in questo caso mi dicevo, ok è bello però, cioè come fossi un spettatore delle mie vita, fossi spettatore del mio corso, ecco questa roba è, poi è arrivato il lockdown, è arrivato il primo blocco, tutti a casa, Alessi, il momento in cui non eravamo, tutto ci diceva che questo libro, per com'è, per quello che c'è dentro, per il tipo d'atmosfera, per le risposte, anche dove uscire, e il momento era quello, ce l'ha detto, me l'ha detto Vanessa, me l'hanno, che usa la giustiziatrice, ma me l'hanno detto tante persone, anche le persone che hanno aiutato, le persone che hanno insieme a noi, dato la possibilità a questa avventura vettoriale di realizzarsi, o c'è nello tiri fuori, perché se lo tiri fuori adesso, guardate questo qua, vi faccio una breve prima lettura, per darvi un assaggio anche solo di questo tipo di atmosfera, di questo tipo di atmosfera distopica, che si respira dentro Agatha, appena partite le fanfare dell'apocalisse sul web, gli esperti si erano presi la briga di tranquillizzare alla gente, gli esperti, sostenendo che era normale, che era sempre successo e che ognuno degli episodi aveva una spiegazione ben precisa, ma piazzando tutto nel frullatore mediatico si creava panico, ingiustificato, colpa dei media e dei blogger caga sotto. Insomma, tempo una settimana e la notizia sarebbe sparita dai titoli di testa delle portaeree dei media mainstream. Il brivido di paura, intuitivo e irrazionale, aveva fatto vibrare un nervo scoperto dell'opinione pubblica, già frustrata dalle continue notizie sullo stato dell'economia, dell'ambiente, della salute, dell'ordine pubblico, squassato dalle periodiche esplosioni di violenza che mettevano a ferro e fuoco scuole, università, quartieri e città. L'incertezza del futuro si stava mutando in vero e proprio il sordo terrore e la paranoia sulla fine del mondo sembrava inventata apposta per canalizzare la potenza autodistruttiva di una civiltà terrorizzata dal proprio domani. Vanessa, adesso tocca a te che sei curatrice, musa, la prima figura femminile dell'organizzazione del libro. Da dove è uscito nel momento del lockdown, di cui tutto era chiuso, però questo libro è uscito lo stesso. Ci racconti come è uscito, dove è uscito? Sì, perché prima del come non è stato fondamentale il quando. Cioè abbiamo deciso di farlo uscire sotto lockdown perché era il suo momento e perché ci sono delle sincronicità che non si possono trascurare. Nel nostro caso era la paura. C'era la paura narrata in Agartha e neanche, da una chiave di lettura per affrontarla, era la stessa che si elevasse tutti tutti sotto lockdown. Io penso che noi italiani si sia stati bravissimi sotto lockdown, no? Che siamo appunto sberpeggiati sempre, eccetera, siamo stati bravissimi. Ma c'è questa cosa che abbiamo vissuto tutti, appunto la paura. non so come fosse Bologna, la città dove viviamo, che è in provincia di Ravenna. Il primo mese di lockdown era completamente vuota, ovviamente, ma soprattutto era silenzio. Nel senso non c'erano rumori, sembrava che non ci fosse nessuno dietro le porte, dietro le finestre. Dopo un mese si ricominciato a sentire un po' di musica nelle strade, ha incominciato a pensare che forse stava cambiando qualcosa. C'era questa parabola indiana che ha incominciato alla girare sui social sotto lockdown, è un racconto di Yogananda che risale al 1920, che parla, probabilmente avete incrociato, parla del fantasma della peste che arriva in un villaggio. C'è la piedonia nel villaggio e muoiono cinque persone. Ora il capo villaggio, che è una persona molto evoluta spiritualmente, va in meditazione e riesce a contattare il fantasma della peste e gli chiede cosa sta succedendo. Il fantasma della peste dice, guarda, è una cosa karmica, è il loro destino, ho dovuto prendere cinque persone, passerà un'altra settimana, ne prenderò altri cinque, poi me ne andrò. Passa una settimana e ne muoiono quindici. Quindi a fine settimana il capo del villaggio ritorna in meditazione, si ricollega al fantasma della peste, anche abbastanza arrabbiato, dice, oh, perché ne hai preso i quindici? E il fantasma della peste dice, no, io ne ho preso cinque, perché era il loro destino, gli altri dieci sono morti di paura. Ecco, questo noi la pensiamo molto semplicemente com'è di fare. Pensiamo che la cosa di scopo di paura è la paura stessa e Agartha ha un messaggio su questo, un messaggio molto forte, portato avanti da questo nuovo femminino, queste nuove giovani guerriere, che possono dare un assaggio. Sì, abbiamo degli sforzi di tutto il mondo, però Agartha è un'altra, in particolare Alice dentro Agartha, la sua. Non sapeva perché stesse ridendo in realtà e la ragione le diceva che era obbligata a essere terrorizzata, ma non riusciva da avere paura. In nessun modo. In una delle poche pause della missione a Creta si era già imbattuta nella terror news del secolo e aveva reagito con supponente indifferenza. Ora trovava la cosa proprio divertente, come se in vista della fine del mondo maya annunciata per il 21 dicembre seguente, un team di buon temponi si fosse dato da fare per organizzare un formidabile stress per chiudere definitivamente le vene della logica, del raziocinio e del buon senso alla civiltà che aveva fatto da padrone negli ultimi 3.000 anni. Quella maschile e patriarcale. Ora, rifletteva Alice sempre più di buon umore, la possibilità di scelta per la totalità del genere umano si riducevano a due. o avere fede nel messaggio di speranza, che è l'antipisi della paura, della sacerdotessa eventuale cassiopea oppure suicidarsi. Ecco, avendo tra gli altri questi messaggi da portare, abbiamo appunto deciso di uscire sotto lockdown, ma era tutto chiuso, case editrici, città, case, quindi fondamentalmente abbiamo autopubblicato su Amazon, che va agli strumenti per farlo, e abbiamo trovato quella che poi a posteriore abbiamo capito essere la nostra prima regina, che entrando nella metafora del re nudo e di mecasteranza della regina, che è stata la nostra correttrice di box, una ventenne, laureata in storia antica, per un mese ha lavorato di no, e una volta che il test è stato pronto, abbiamo incominciato a seguire un po' di chine, come dice un'altra protagonista del libro, che le coincidenze non esistono, e abbiamo cercato di capire come diffondere questo libro, e abbiamo incontrato la seconda regina, sempre un'altra ventenne, giovane, sono tutte estremamente forti queste ragazze, che ci ha indirizzato verso Instagram, che è il social che adesso va di più fra i giovani. Una volta provate a Instagram, con questa copertina, nel giro di una settimana il libro è stato traccato, ed è un successo professionale incredibile, nel senso che come forma di diffusione tra i giovani, perfetto! Siamo estremamente contenti perché lo scopo di un libro alla fine è farlo leggere. Quello che succede, che questa esperienza in qualche modo mi ha fatto pensare, in un primo momento, è proprio questa comunità che nel virtuale e nel reale, confusi, si avvicinano ad Agatha. E a me ha fatto pensare a quello che succede nella storia infinita, in cui quello che c'è nel mondo fantastico si trasferisce attraverso chi lo vive nel mondo fantastico nel mondo reale. E questa figura su cui inverte la curiosità, sicuramente, di chi ascolta è questa delle regine. Le regine di Instagram, Bookstagram... Ci vuoi dire qualcosa in più, Vanessa? Cosa fanno? Che potere senti che hanno nel trasferire tutto questo universo nel... Sì, sono, a differenza, diciamo, della generazione precedente, queste Bookstagrammer, ventenni, trentenni, sono interessate ai contenuti e non all'apparenza. Quindi, fondamentalmente, leggono libri, sfornano recensioni, aggiungono del loro, appunto, come la storia infinita, un pezzettino alla volta. E hanno adottato, l'hanno adottata, hanno cominciato a interpretarla, a interpretare la copertina, a scovare nuovi, diciamo, approfondimenti del libro. Attualmente abbiamo 50-60 recensioni all'attivo di queste Bookstagrammer che hanno migliaia di follower. E sono riconoscibilissime, nel senso che una volta che si sa che si sta cercando, si trova anche, no? Assolutamente, queste sono giovani, appassionate, molto colpi e curiosissime, e sono tutte guerriere, proprio come le protagoniste di Agartha. E' interessante questa cosa che così nel libro sta succedendo nella realtà, come è stato così sopra, no? E addirittura, come nel libro, le protagoniste, per andare avanti alla storia, utilizzano la tecnica del sogno di Castanello, dei sogni lucidi, così nella realtà le Bookstagrammer hanno incominciato a sognare di essere Agartha. Cioè, si risvegliano a Agartha e incominciano a girare per i piccoli del Largo Tic. Queste sono le interpretazioni che hanno dato i ragazzi di Agartha. Questo diventa nella copertina. Tanti punti toccati. Cominciamo dal primo. Questa copertina, al di là del valore artistico evidente, ha un significato particolare? Sì, perché così come Orione dice che il libro si è scritto da solo, la copertina si è un po' disegnata da sola. E il quadro di ispirazione è stato questo, che avevo incontrato diversi mesi prima, quando ancora non si parlava di pubblicare il libro. Ed è un quadro di un pittore russo, un teosofo, mi ha fatto due versioni tra il 1920 e il 1936 e rappresenta la nostra era attuale, quella di rinascita del femminino. È velato perché all'epoca non si sarebbe saputo, non si sapeva come sarebbe stata quest'era. E la copertina è venuta da sola. Probabilmente eravamo collegati allo stesso luogo dello spazio idea, come lo chiama Alain Moore, e questo è uscito. L'altra coincidenza armonica che riguarda sempre i teosofi, e abbiamo scoperto il giorno prima di pubblicare il libro, è che è uscito nell'anniversario della morte di Abavaschi. E qui dalle regine passiamo all'impera felice direttamente. Quindi Agatha fondamentalmente adesso anche per noi rimane un mistero. Ecco, si scrive da solo, si disegna da solo. La cosa bella di questo è che così come il quadro di Roerich, la madre del mondo, era velata, nella stessa maniera la copertina del libro non avrà gli occhi. Quindi, ok? Qui ce li stanno mettendo fondamentalmente le ragazze, come se il nuovo femminino fossero loro, no? Sì, stanno mettendo in te tutto questo. Continuiamo un punto alla volta la nostra narrazione e arriviamo alla domanda, la prima domanda forse che fa venire in mente il titolo, Agatha. Che cos'è Agatha? Agatha è una mitologia e come mai è stata quella l'ambientazione in cui questa storia ha scelto di ambientarsi? Beh, Agatha è un mito, un mito letterario di cent'anni fa, proprio cent'anni esatti, nel senso che sono usciti 3-4 libri importanti, tutta un'altra serie di libretti intorno al 1920. Il più famoso, direbbe il mondo di René Guenon, Alpino, Sendorsky, gente che sosteneva di esserci andata anche, realizzatori, presbulti, mitomani vari, ma anche, gente che però portava proprio una cassa al tesoro, no? Dove si entrava per portare l'accesso, che era tutto. Un mito serio, come in realtà, che era comunque costruito sulla base di miti linguisti, cioè era un collage di miti che già esistevano, però per creare un vero e proprio mito letterario, per vendere i libri, per essere sinceri, però era un vero mito letterario costruito di sana pianta. Ci hanno creduto praticamente solo i nazisti e Hitler, che hanno fatto però le spedizioni tutti i seri. Io ho appreso di questa faccenda la prima volta da ragazzo guardando questo documentario, dove c'erano tutti i nazisti, che andavano in Tibet alla ricerca dell'ingresso della carità Shambhala. Naturalmente non l'ho provata. Perché l'ho scelto? Perché, al di là del fascino della storia, eccetera, però mi ha affascinato sempre, che nel libro è un gioco, è uguale i denti, nel senso che Shambhala è un sottosuolo, è un sottosuolo virtuale, un gioco di ruolo pesissimo, con una tecnologia, non vi racconto, però sono astrissima, basata sul computer quantico, quindi con un'idea, peraltro, quando l'ho scritto sembrava, ma adesso lo stanno sperimentando, c'è stato il primo prototipo di Google uscito l'anno scorso, eccetera. Ma è uno spazio vuoto, mi ha affascinato sempre questa idea del fatto che è uno spazio vuoto, una terra cava, il mito è il mito della terra cava, il fatto che è sotto, ed è un luogo che è comunque realmente misterioso in cui comunque può succedere tutto, può succedere qualunque cosa, è il luogo ideale per realizzare i sogni, sogni talmente potenti che mettono in discussione tutto quello che sappiamo. Tutto quello che sappiamo a partire dalla cosa più radicata, dall'elemento più radicato, da quella che, indipendentemente dal fatto che se ne rendiamo conto o meno, è la nostra certezza delle certezze, che però in realtà certezza non è, perché è una straordinaria conversione, e cioè il tempo. Ed è una delle cose che mette in discussione il nostro libro, è proprio il tempo. Quanti minuti dura un sogno, Jane? Ma dipende. Infatti dipende. Il tempo è come lo spazio, una dimensione percorribile a diverse velocità. Una far palla vive un giorno, un vivo 600 anni. Credi che madre natura faccia delle preferenze? Questo è un po' una delle chiavi concettuali, anche degli elementi proprio così di fascinazione vera della nostra vita. Non abbiamo lasciato a garta i nazisti, insomma. Sono andate le femmine a riconquistarlo. Quello che è un portale, diciamo, a garta ci si entra, è un portale che dà l'accesso a diverse porte dello spazio e del tempo. E a un certo punto ci ritroviamo nel primo maggio del 122 avanti Cristo, alle ore 18 a Chartres, in Francia. Michele riaprì gli occhi, con le narici immerse nella primavera, ben più che inoltrata, di una campagna lussureggiante che declinava in bosco in ogni direzione. L'unico spiazzo di verde, sgombro da querce e frassini, si sarebbe detto il leggero pendio della collinetta, su cui si era trovata sdraiata, dopo lo shock energetico di pochi minuti prima. Si guardò intorno, più stupita che impaurita. Era quello un misterioso secondo livello di agarta? Un silenzio irreale la circondava, interrotto solo dai rumori della foresta, che punteggiavano con l'indolenza di un tardo pomeriggio primaverile il tappeto di brusini, versi e fruscii che faceva la colonna sonora al suo nuovo misterioso appropolo. Michel decise di affrontare la questione faccia a faccia. Doveva sapere che ci faceva lì e qual era l'obiettivo della sua nuova missione. Si chiese fugacemente dove fossero finiti gli altri, Lenora, Alice, la stessa clandestina, che cos'era successo. Il nuovo livello del gioco l'aveva assorbita completamente, ma ora forse aveva qualcuno a cui chiedere. Sentì un rumore dentro la casa, come se cercassero qualcosa. Poi dei passi pesanti. Il tempo di rendersi conto che non aveva ancora controllato nessuna delle proprie funzioni vitali e un baldo giovane, chioma fluente e aspetto velicoso, le si parò innanzi. Non doveva averla vista perché si era messo ad armeggiare tranquillo per recuperare la torcia. Michel fece un passo avanti deciso per farsi sentire. L'uomo si girò di scatto e rimase pietrificato dal terrore. Decise di controllare il bril prima di affrontarlo. Niente. Nessuna funzione era attiva. Ricerche, indicatori vitali, chat. Niente di niente. Non riusciva a far partire niente. O l'avatar era in sciopero oppure panico. Michel guardò di nuovo le ragazze. La barba gli sfiorava il petto nonostante la giovanità. I lunghi capelli in color rame gli scendevano sotto le spalle. Non muoveva un muscolo. Gli occhi celesti sbarrati. Dov'era finita? Provò a scollegarsi. Niente da fare. Significava che impietrì a sua volta e si arrese all'assurdo. Quella era la realtà. Oddio. La mano esitante corse sull'ampia veste di vino bianco che le fasciava il corpo. La mano. Per la prima volta, se ne rendeva conto solo ora, si guardava la mano e la sua pelle era nera. Anche l'altra e le gambe lo erano. Michel gridò con tutto il fiato che aveva in gola. La Garte è un romanzo distopico. Un romanzo distopico, diciamo così, ha tutte le caratteristiche, anche se la distoppia, come c'è stato detto, è una nostra realtà che quella dove guardiamo. Il romanzo di distoppia è il presente, è il reale. Vabbè, e poi basta guardare il perigionale per renderti conto diciamo un romanzo distopico. Un po' la chiave più. Ed è ricco di rimandi esoterici, di citazioni, di molto, diciamo che è ricco, ma è forse, chi lo legge, tutte le persone che hanno letto la messa di teatria in 50-60 recensioni, ogni recensione ha una sola interpretazione che ci hanno anche scritto da questo punto di vista, perché molti, soprattutto di questo, tutte le recensioni, hanno trovato qualcosa di loro e l'hanno interpretato, e hanno interpretato i rimandi e le citazioni in modo molto, molto personale. L'ambientazione, soprattutto nel sottosuono virtuale, ovviamente è un po' il cuore di questi rimandi ermetici ed esoterici, e l'ambientazione, il cuore di questa ambientazione è il quartiere, il quartiere dove si rivolge questo di gioco, del gioco Agata, del quartiere vecchio di Shambhala, Shambhala, che già nel mito, è la capitale di Agata, la città di Smeraldo, l'innominata, quindi si chiama Shambhala, la città di Agata. Nel gioco c'è questa aggiunta di questo quartiere che si chiama Argotik. Nel libro, sia nella versione in e-book perché nella versione cartacea all'inizio c'è questa disimilizzazione di Agata Vanessa dove c'è proprio una cartina che in un altro permette a chi legge dal punto di vista di orientarsi, nel senso che ci sono edifici e i luoghi più importanti dove i giocatori dentro la narrazione girano, quindi c'è la sede di la cattedrale di Chartres, Saint Paul, che sono disposte in triangolo, quelle principali, senza dovermi anticipare, però ci sono una serie di edifici che sono comunque per una serie di ragioni importanti perché c'è una serie di cattivi, il posto dove si trovano il quartiere generale tra virgolette cattivi, sono dei artisti atleti, e i vari posti più importanti. E' però interessante capire anche un po', faccio anche qui una breve lettura per darvi un assaggio del perché argotica e del cosa intendo per rimandi ermetici. la luce delle candele catturò la sua attenzione e per qualche interminabile istante Lemuria si ritrovò immersa nella linea della locandiera, incapace di uscirne. Poi si destò di scatto, come sapeva succedere, solo alla garta, e pensò intensamente all'argotica. Sulla finestra di ricerca, in alto a destra, sul suo spettro visuale, lei sta giocando in questo momento. Comparve di nuovo la narrata spaziale della riproduzione per giganti dell'interno della cattedrale di Chartres. Era l'immagine che possedeva del quartiere gotico, quella che l'aveva passato la locandiera. Lemuria la teneva d'occhio mentre cercava di fare i compiti a casa e di preparare la trasferta decentemente, consapevole del potere che la donna esercitava su di dentro e della strana sensazione di sottomissione che le imputeva e che si sorprendeva a non detestare. Sotto la videoguida della chiesa e in sovrimpressione nella finestra di ricerca, Jane ebbe accesso a decine di file con pezzi di vita e pensieri messi in condivisione, per lo più da fonti anonimi. Decise di essere metodica a partire dall'inizio, dal nome. Art Gothic era l'acronimo di Art e Gothic inventato da Fulcanelli, misterioso studioso francese, ultimo degli alpinisti, erede novecentesco della millenaria tradizione ermetica. Grazie a tutti.